Anche quest'anno torna il premio Mestre di Pittura 2018, promosso dal Comune di Venezia e dal Circolo Veneto, che l'anno scorso ha visto la partecipazione di 220 artisti provenienti da tutta Italia, a dimostrazione di quanto Mestre stia diventando attrattiva dal punto di vista culturale. L'anno scorso è stato un trionfo per il numero di partecipazione, per le qualità delle opere, per l'entusiasmo della città. E quindi questo premio che vuole in qualche maniera anche ringraziare la città di Mestre, che è la nostra città, e quindi lo chiamiamo premio Mestre, premio Mestre di Pittura, che vuole coinvolgere i tanti artisti mestrini che con passione vivono, interpretano e attraverso la pittura mostrano il meglio di loro stessi. La pittura infatti permette di esprimersi al meglio e quest'anno il concorso si articola in tre sezioni. Per le scuole, dedicato alla fotografia, acquerelli in libertà nel nuovo chiostro dell'M9 di Via Poerio e la mostra vera e propria che si terrà al Centro Culturale Candiani. Un progetto che vuole la partecipazione di tutti. Dobbiamo partire da chi fa qualcosa, da chi lavora, dai giovani che stanno studiando e che vogliono occuparsi di questa città. Noi dobbiamo chiedere a loro veramente in tutti i modi di partecipare alla vita comune, partendo proprio anche da questi concorsi, da queste idee che loro possono buttare, che poi devono misurarsi anche le loro con la realtà dei fatti, con la fattibilità delle cose.